Confartigianato vuole sempre più essere protagonista del cambiamento. Non solo uno slogan, ma un cambiamento che in questo 27 maggio si declina a 360 gradi attraverso un convegno dal titolo Innovazione Tecnologica, opportunità per le micro piccole imprese, programmato all'Hotel Excelsior con un ospite d'eccezione come il rinomato fisico, nonché padre dei microprocessori, Federico Faggin. Giornata che è stata anche l'occasione per fare il punto sulle iniziative della Confartigianato a Pesaro durante una conferenza stampa nelle comune, dalla vicinanza alle imprese associate a quella al Banco Alimentare fino ad Arte e Cultura. Da febbraio abbiamo avviato una campagna di ascolto sui territori della provincia di Ancone e Pesaro-Orbino. Il nostro impegno è quello di essere vicino alle nostre imprese e ai nostri associati. Su Pesaro stiamo investendo per cercare sempre di più di creare sinergie con il territorio. Stiamo organizzando anche degli eventi, degli appuntamenti formativi. Il nostro impegno è essere vicino alla comunità. Abbiamo organizzato anche delle iniziative per valorizzare il patrimonio culturale di Pesaro. Allo scorso anno abbiamo restaurato il tempietto della Madonna delle Grazie. Quest'anno avremo ulteriori opere di restauro, anche di tele, importanti qua a Pesaro, proprio per testimoniare la vicinanza alle imprese con azioni concrete, alla vicinanza alla comunità e alle persone che rendono unico questo nostro territorio. Un impegno su Pesaro all'attenzione di Enrico Mancini, appena rieletto presidente dell'area territoriale. Sicuramente è un quadrigno che ci aspetta molto intenso perché le problematiche sono tante, ascoltiamo sempre i nostri imprenditori e cerchiamo di fornire tutti gli strumenti per risolvere tutte quelle che possono essere le loro problematiche. È un periodo intenso che ci aspetta perché è un periodo di intensa attività, tutto cambia molto rapidamente e noi artigiani e piccoli imprenditori dobbiamo adeguarci e cambiare altrettanto rapidamente.